Una capienza di 800 posti, ma nel cara di Bari, il centro di accoglienza per richiedenti asilo, ce ne sono 1461, quasi tutti maschi, 13 le donne, 4 le famiglie e 2 i minori, però più afghani, iracheni e pakistani. Qui tutto sommato siamo bene, ci raccontano gli ospiti, gli spazi sono ampi, ma i bagni lasciano molto a desiderare. La prefettura ha assicurato che i lavori inizieranno a breve. Una fotografia consegnata alla Commissione Senato per i diritti umani, guidata da Luigi Manconi. Il numero degli ospiti è elevatissimo. Gestire una situazione così ampia è davvero impegnativa. Stiamo parlando di richiedenti asilo e di rifugiati, cioè persone che per la Costituzione italiana hanno diritto alla protezione ed è nostro dovere accoglierli. Il parlamentare si documenta, parla con gli extracomunitari, chiede cosa fanno, come stanno. I servizi sono garantiti dai 160 dipendenti dell'Auxilium, assistenza sanitaria e giuridica, mediatori e interpreti, aiuto socio-psicologico. Da pochi giorni al CARE è arrivato un giovane iracheno, spera di ottenere presto il permesso e andare via dall'Italia. Qui, ci dice, non c'è lavoro. I tempi di attesa sono stati ridotti a 6-7 mesi, grazie al superlavoro della Commissione, ma c'è un nuovo fenomeno da fronteggiare, spiegano i dirigenti della Questura. L'arrivo di immigrati non a seguito di sbarchi, ma dal nord. Fino a poco tempo fa, in Questura, di richiedenti asilo se ne contavano 5-6 a settimana. Da settembre scorso almeno 20 al giorno. Afgani, iracheni, iraniani, soprattutto pakistani, non è un caso che nel CARE ce ne siano ben 500.